Buongiorno a tutti, sono Mattia Fiorin, Marketing Product Manager di Nokia Italia e vi presento il Nokia 808 Proview. L'abbiamo visto ieri, è stato annunciato come la grande novità del Mobile World Congress di Nokia ed è il primo cellulare con 41 megapixel di macchina fotografica. 41 megapixel, l'avete sentito bene? E il flash all'oxenon di alta potenza e alta qualità, questo cellulare permette non solo di fare foto di altissima qualità ma anche di girare video full HD, supporta il Dolby ed ha un sistema di microfoni incorporato che è in grado di registrare audio anche ad altissimo volume, quindi ad esempio se siamo in un concerto quando torniamo a casa, vediamo il video e anche l'audio sarà perfetto, non abbiamo più quelle sbavature dovute ai picchi ad esempio dei bassi, ma il microfono che è integrato è in grado di gestire questi picchi. Lo schermo è di grandi dimensioni, è un Super AMOLED Clear Black Display, quindi si vede molto bene anche la luce del giorno. Symbian è Symbian Bell, feature pack 1, potenziato il browser, potenziato il multitasking. Pensate che questo cellulare ha ben tre core, uno è il core principale, uno è la graphic processing unit quindi perché gestisce tutta la grafica e poi ha un processore dedicato alla gestione dei 41 megapixel. 41 megapixel con un sistema particolare vengono compressi nella 5 megapixel migliore che avete mai visto. Potete anche decidere di salvare la foto nella massima risoluzione, ma per rendere più agevole lo sharing attraverso i social network abbiamo creato per voi questa funzione che riduce le dimensioni però mantenendo altissima la qualità.